Prendiamo gli obiettivi. C sotto controllo. Perdiamo Alpha. Semtex! Abbiamo perso Alpha. Aereo spia ostile in sorvolo sulla zona. Perdiamo Charlie. Rileviamo diversi aerei spia nemici. Approvvigionamento ostile in arrivo. Non è finita, ma raffruttarsi in sotto controllo stico round. Perdiamo Charlie. Siamo a metà. Inversione punti di raduno. Occupiamo gli obiettivi. Prendiamo Charlie. Il nemico controlla. Obiettivo in sicurezza. Charlie al sicuro. Granata partita. Uso una mina di prossimità. Catturiamo A. Il nemico è bravo. A sotto controllo. Perdiamo A. Abbiamo perso. Uso una granata. Granata partita. Certo. Un giro. Un giro. Un giro. Un giro. Un giro. R.C.X. di nemico rilevato. Aereo di via nemico in arrivo. R.C.X. di nemico rilevato. 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 Abbiamo perso B. Corretta robot nell'Italia in parte dell'area operativa. Vediamo A. Perdiamo A. Approvvigionamento ostile in arrivo. Aereo spia nemico in arrivo. Ci stanno dominando. Dobbiamo reagire. B sotto controllo. Catturiamo Alpha. Perdiamo B. Contatto con aerei spia nemici. A è in mano nostra. Ultima possibilità. O la va o la macchina. Abbiamo perso Bravo. Ritmi a fare sia lei spia nemici. Uso una granata. Non possiamo vincere. Disingaggiare e uscire dall'area. Ok, siamo fermi. Dirigersi al punto di estrazione. Ostile. Adler richiede un'aereofia in camulo. Cinque nemici rimossi. Grazie a tutti. Grazie.